Sì, è vero, è vero, è vero, è vero. Sì, è vero, è vero, è vero. Sì, è vero, è vero. Sì, è vero. Sì, è vero. Sì, è vero. Sì, è vero. Allora, questo è un nostro grande progetto che si svilupperà in qualche anno. Siamo partiti lo scorso anno da Venezia e siamo arrivati a Istanbul. Quest'anno abbiamo fatto Istanbul Samsung e l'anno prossimo arriveremo in Georgia, in Azerbaijan e poi la prossima volta forse arriveremo in Cina. Inshallah. Inshallah. Sicuramente arriverò dopo gli 80 anni, però va tutto bene. Inshallah. 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 Inshallah.